Buongiorno, buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di FanoTV. Oggi è lunedì 9 novembre 2020, questo è il canale 17 di FanoTV che comincia con la rassegna stampa del mattino in diretta e dunque tra poco vedremo le notizie e le pagine che abbiamo selezionato per voi dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino. Ma come di consueto partiamo con il calendario, oggi la Chiesa fa festa per la dedicazione della Basilica Lateranense costruita dall'imperatore Costantino in onore di Cristo Salvatore come sede dei Vescovi di Roma, la cui annuale celebrazione in tutta la Chiesa Latina è segno dell'amore e dell'unità con il romano Pontefice. Il sole è sorto un minuto fa e tramonterà le 16 e 51. Andiamo subito sul trebimeteo.it perché il titolo ci fa capire che insomma c'è poco da dire sul tempo anche per questa settimana, questo super anticiclone che spegne l'autunno in tutta Europa, il sole, il bel tempo, vedete l'alta pressione quindi non c'è pioggia, non c'è nulla da raccontare. Anche la protezione civile delle Marche con il suo bollettino quotidiano per oggi indica cielo sereno poco nuvoloso, attenzione soltanto alle foschie e ai banchi di nebbia. Martedì domani 10 di novembre ancora cielo sereno poco nuvoloso, un po' di brezza, di vento moderato lungo la costa. Per il resto insomma non c'è niente da dire, tempo buono ancora per i prossimi giorni. Ieri ancora c'era qualcuno che faceva il bagno al mare. Allora adesso andiamo a vedere i titoli delle pagine dei giornali di oggi. Allora il resto del carino, questa è la pagina di Pesaro, il titolo della fotonotizia è VL in orbita, lo sport Varese KO è la terza vittoria di fila per la squadra di basket pesarese, per i bianco-rossi. Intanto la regione che allerta le cliniche private, Covid, per allentare la morsa sugli ospedali e le strutture sollecitate ad attivare posti letto per malati non gravi. I giorni del coprifuoco, questi sono i giorni del coprifuoco, giro proibito nella notte, scattano le prime multe, già quattro autisti finite nella rete. E poi il noto ristoratore Rolando Ramoscelli che sta lottando contro il virus, a marzo invece bocciava le mascherine, Zuccatelli, commissario alla sanità ed è già bufera. Mentre sempre sulla prima pagina del Carlino, Dipartimento e Prevenzione entro novembre i mini drive per i test rapidi dedicati alla scuola. E poi sotto il dono dell'ex consigliere anche i disabili in bicicletta, grazie al tandem elettrico e di taglio basso. Famiglie in crisi, arrivano i buoni in spesa, a Fano ne beneficeranno 227 nuclei su nove comuni. Contributo medio una tantum di 250 euro. E poi c'è l'artista, il cantautore Stefano Fucili, fanese, nella top ten di Amazon. L'ultimo album tra i più venduti ha sfiorato Renato Zero e Max Pezzali. Il Corriere Adriatico. Parto Covid, ma niente ostetrica. La professionista arriva a Pesero da Fano perché il punto nascita contagiati non ha la Guardia Medica Notturna. Acquaroli e Salta Martini. Intanto un nucleo di coordinamento e l'apertura ai privati. Ieri 502 positivi e 7 morti. La VL vince anche senza Cain. Con Varese finisce 85-78. Lo sport con la fotonotizia. Poi le novità. Covid Hotel, da domani disponibili i primi posti. E poi ancora bando per la geriatria. Cercasi primario ma senza reparto. Poi sempre da Pesero corsa ai bonus, spesa e bambini. Già 3.800 le richieste. E a Fano, studente sta male ma risulta positivo solo dopo due tamponi. Ancora qui di taglio basso dalla prima del Corriere. Prigionieri del centro che non c'è. Rileva un bar cinese ma non può aprire. Questo lo vedremo tra poco dalle cronache di Vallefoglie. E poi la Serie C che parte male. La vis targata di Donato sconfitta a Salò per 1-0. E allora le Marche. Nelle Marche c'è una buona notizia che è questa. Che l'indice RT, l'indice che indica la contagiosità del virus nella nostra regione è sceso. Da 1,35 siamo a 1,29. Il titolo con un impatto che adesso viene giudicato moderato intensivo. Ma il virus uccide altre sette pazienti. Il dossier del servizio sanità all'incontro in regione. La media è di 580 positivi al giorno. Dunque l'impatto pandemico nelle Marche è di tipo moderato intensivo. Nella settimana tra il 26 e il 1 novembre. L'indice di RT per la valutazione del rischio settimanale è passato da 1,35 a 1,29. La provincia di Pesero resta ancora tra quelle con meno contagiati. Ieri segnalati altri 41 ricoveri di cui due degenti in terapia intensiva. Intanto c'è il problema dei posti letto. Gli ospedali della regione Marche non possono tornare allo stress intollerabile dei mesi di febbraio e di marzo, marzo-aprile. C'è l'assessore Salta Martini, l'assessore alla regione, alla sanità, che sta facendo, lavorando giorno e notte di fatto, e sta lavorando anche di domenica per cercare di mettere in comunicazione per esempio le Asur. Lo aveva già detto quasi con una denuncia pubblica, anzi denunciandolo pubblicamente, questa mancanza di collaborazione tra le Asur marchigiane. Questo è un lavoro da affrontare, è una situazione da migliorare nella maniera più assoluta. E allora ecco che dice, insomma, il budget della regione sta terminando, i soldi stanno terminando, non possiamo permetterci di andare a comprare spazi o letti, posti letto, anche a ore, nelle cliniche private, anche se questa è la strada, in questo momento forse la più facile, perché i soldi della regione, i soldi del budget stanno terminando. Allora, gli ospedali sono in sofferenza, la situazione è sotto controllo, questa è l'altra notizia comunque rassicurante. All'ospedale di Pesaro i ricoveri dei contagiati sono il 20% del totale, a Torrette il 10%, scrive Maria Cristina Benedetti sulle colonne del Corriere Adriatico di questa mattina. E allora vedete cosa dice appunto Saltamartini. Oltre all'urgenza imposta chiaramente dal virus, bisogna armonizzarsi, questa è la parola da tenere ben a mente, armonizzarsi per bilanciare le esigenze della sanità ordinaria. Certo, possiamo aprire altri quattro moduli del Covid Hospital di Civitanova, ma il personale manca il personale. E dunque questo è un altro problema. Saltamartini ammette, c'è tensione tra i lavoratori, sono passati da un'emergenza all'altra senza fare neppure le ferie, spesso trascorrendo l'estate a recuperare l'attività ordinaria rimasta indietro durante la prima ondata di Covid. Questo è l'articolo sul Corriere di questa mattina. Sul Carlino invece, anche qui la notizia, chiaramente che la Regione ora chiede posti letto ai privati. Ieri c'è stato un incontro della Giunta, sollecito alle cliniche di attivarsi per malati Covid a bassa intensità. C'è già l'incarico affidato alla dirigente di Furia, ma io ho evidenziato invece l'altra notizia che arriva da San Costanzo nel Pesarese. Il noto chef Rolando ricoverato all'ospedale di Pesero per Covid e sta lottando, pare appunto, contro il Covid. Il noto chef e scrittore Rolando Ramoscelli, che vedete in questa fotografia, 72 anni, titolare del ristorante Da Rolando, cucina dialettale di San Costanzo, trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore di Pesero. Venerdì scorso, secondo indiscrezioni, ancora da confermare, sarebbe attualmente in terapia intensiva e intubato. Ramoscelli ha radici forsempronesi, insieme a Gianfilippo Centanni ha scritto La bellezza di 19 libri che sono trattati di cucina e tradizione marchigiana. C'è stato un parto, una donna che ha dovuto partorire, una donna di macerata, che è stata portata, trasferita in ambulanza all'ospedale di Pesero, al San Salvatore, perché appunto doveva partorire un figlio. Solo che lì a Pesero non c'era l'ostetrica e quindi l'ostetrica è dovuta partire da Fano. Insomma, tutto un marchigegno che insomma sta preoccupando, sta preoccupando non poco. Parto Covid al San Salvatore, questo è il titolo, ma l'ostetrica arriva da Fano, si scopre così che il percorso regionale partorienti positivo è privo di un medico di guardia notturna, la paziente arrivata da macerata e il suo bambino stanno bene, ma il rischio contaminazione esiste. perché portare in un'area sporca, scrive Letizia Francesconi sul Corriere, portare in un'area sporca una professionista che lavora in un reparto e in un ospedale pulito, insomma non è il massimo dell'organizzazione. Questa è un po' la sintesi. Quindi la professionista è l'ostetrica che stava a Fano in un ambiente cosiddetto pulito, portarlo in un ospedale come il San Salvatore, dove ci sono ricoverati Covid e quindi sporca, in un'area sporca, così detta sporca in gergo, non è una scelta ottimale. Insomma, nei prossimi giorni altre partorienti in arrivo a Pesaro, provenienti dalle strutture ospedalieri di Ancona, Porto Recanati, Ascoli e Macerata, dovranno appunto arrivare in città per nascere, far nascere il proprio figlio. Al punto nascita del Santa Croce di Fano, al momento operano due medici di guardia, due infermieri e due ostetriche di turno. L'attuale organizzazione sarà uno dei temi da affrontare nel prossimo incontro fra azienda ospedaliera e le parti sociali. Allora, adesso invece andiamo, ho selezionato per voi questa mattina una pagina dal quotidiano nazionale, dal Carlino, le pagine nazionali, dove Alessandro Malpelo ribadisce in questo articolo l'importanza della mascherina. Ora, il titolo, continuato a coprire il viso, prima barriera anti-Covid, perché questa è la parte importante. La carica virale si abbatte fino a mille volte proteggendo bocca e naso, non uno o l'altro. Cioè bocca e naso, quindi anche il naso. Spesso ancora si vedono persone che indossano la mascherina come fosse una sciarpa e quindi tenendo scoperto il naso. Anche il naso, come fa, vedete, a 94 anni la regina Elisabetta II, va coperta e lei si è fatta fotografare appunto con la mascherina. L'articolo di Alessandro Malpelo comincia così. Lo sapevate che mascherina e distanziamento fisico abbassano di mille volte la carica virale, persino la regina Elisabetta, al cui cospetto non sarebbe possibile avvicinarsi facilmente, quindi, come dire, la distanza lei la tiene sempre, ha sposato la linea prudente ed è stata fotografata con naso e bocca ben coperti. Decine di laboratori nei cinque continenti hanno misurato la dispersione delle particelle di SARS-CoV-2 nell'ambiente. E poi, ebbene, si è visto che l'effetto barriera sulle mucose delle prime vie aeree abbassa l'esposizione al contagio. La carica virale sui tamponi in pronto soccorso si è ridotta con livelli fino a mille volte inferiori rispetto a marzo e in parallelo si è ridimensionata la gravità della malattia, perché chiaramente un conto è prendere il Covid con una carica altissima e un conto è prendere il Covid con una carica che è al limite oppure bassa. Insomma, la reazione nel corpo è sicuramente diversa. In tutto questo, che cosa ha influito? Perché ricorderete, all'inizio, insomma, in tanti storcevano il naso, la mascherina non serve a nulla. Ma questo perché? Perché, come scrive giustamente il giornale questa mattina, all'inizio anche l'OMS, niente meno che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, era incerta sull'efficacia, sulla sua efficacia, e dunque ne ha rallentato il corretto utilizzo. Qualcuno diceva, non ci sono, qualcuno dell'OMS, lo ricorderete, beh, non ci sono evidenze che le mascherine avessero una funzione protettiva nei riguardi della popolazione, quindi, insomma, ma forse non servono, all'aperto non servono, insomma, tante cose che hanno creato solo confusione. Oggi, invece, è bene ricordarlo, le mascherine sono importanti, anzi, sono fondamentali. L'impiego di mascherine, anche lavabili, riutilizzabili, come pure di qualunque altra barriera efficace, come poteva essere la sciarpa, o qualcosa di messo, insomma, bene, di fronte alla bocca e al naso, impedisce la dispersione delle goccioline che diffondono il virus e il conseguente contagio. Dopodiché vale ancora una volta il distanziamento e lavarsi le mani o igienizzarle. Covid hotel, andiamo sull'altra pagina del Corriere, 627 le camere trovate per ospitare le persone che devono fare la quarantena, che, insomma, hanno necessità di stare in isolamento. 627 camere, domani al via i primi posti, 13 le strutture su tutto il territorio regionale, messe a disposizione da Confcommercio Federalberghi. Il passaggio per governare la pandemia viene regolato dall'accordo quadro firmato in regione. Dopo il terremoto, dunque, il coronavirus. Gli albergatori non voltano le spalle all'emergenza sanitaria generata dall'incedere del Covid-19. E allora, nelle Marche, come abbiamo visto, 155 camere in tre strutture nella provincia di Ancona, 127 nel Maceratese saranno due gli alberghi, tre alberghi per un totale di 111 camere nel Fermano e tre alberghi per 90 camere nella Scolano, mentre due alberghi per 136 camere nella provincia di Pesaro e Urbino. Questa è la situazione. Un bimbo positivo, invece, in una scuola media a Fano, la scuola è la Padalino, quindi tutta la classe è andata in quarantena, questo bambino studente ha accusato prolungati sintomi, ma il contagio è emerso solo al secondo tampone, polemica sui social per l'affollamento durante il mercatino dell'antiquariato. Intanto, centri commerciali chiusi, ma lì addio distanziamento. Insomma, c'è un'altra classe fanese che è la terza D della scuola media a Padalino, i cui studenti da sabato scorso sono tutti in quarantena, questo bambino comunque sta bene e quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Poi invece ci sono tante segnalazioni, anche noi ne abbiamo ricevute in questo fine settimana, di fotografie, video, di assembramenti, il mercatino, antiquariato, eccetera, eccetera. Ecco, tante persone che pur indossando la mascherina però sono molto, molto, molto pigiate uno contro l'altro. E poi c'è il problema dei centri commerciali che insomma è vero che la galleria resta chiusa però per il resto insomma tanta gente che non riesce, non ce la può fare a stare a casa. Anche perché c'è da dire questo che da una parte diciamo che i contagi avvengono in casa dall'altra ci costringono a stare a casa quando dovremmo stare fuori perché proprio per stare un po' più distanti per stare... Quindi capite che il nostro cervello che già è poco abituato a riflettere, a ragionare e a fare analisi critica delle cose che avvengono e che ci dicono anche a livello di informazione dai giornali, dalle televisioni e quant'altro e quindi ha poca capacità e analisi di critica quando si ritrova a dover così elaborare tutte queste informazioni state a casa ma a casa ci sono i contagi che avvengono con più facilità insomma cosa dobbiamo fare? Si va un po' in confusione intanto andiamo sempre sul Corriere di Oggi Cresime e Comunioni rinviate al 2021 a Fano in alcune parrocchie al San Paolo invece sabato è stata festa sempre in sicurezza per nove bambini li vedete tutti belli distanziati con il parroco Don Checco Don Francesco Pierpaoli sotto invece allora Sgarbi Sgarbi mimetico anche noi a Fano TV abbiamo fatto gli straordinari Sgarbi ci ha fatto fare gli straordinari in particolare Simona Zonghetti che l'ha seguito passo passo con uno dei nostri operatori Giacomo Vitale che chiaramente hanno fatto le ore anche loro le ore piccole per star dietro a Sgarbi e a Carriera il ristoratore Carriera Sgarbi che indossava una tuta mimetica insomma una cosa stramba che abbiamo mostrato anche nelle nostre dirette Facebook riceve ancora un no dai sindaci perché a un certo punto Sgarbi ha invitato ha invitato prima Ricci poi Seri a cena tutti e due hanno declinato l'invito Seri però ha detto no vediamoci a pranzo poi alla fine anche lui ha detto di no e insomma è andata a finire così però nel frattempo Sgarbi è andato a cena a Urbino dove non c'è stata nessuna non c'è stato non c'è stato nulla mi pare che sia andato tutto regolarmente stasera invece avremo Ricci questo ve lo ricordo stasera avremo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci qui in diretta alle 21 all'interno di Primo Cittadino quindi tutti i pesaresi so che sono tanti e siete tanti potrete parlare con il vostro sindaco intervenire in diretta fare le richieste le vostre domande chiaramente parleremo anche del covid parleremo della situazione attuale con il sindaco di Pesaro e quindi cercheremo di capire un po' il suo pensiero da questo punto di vista intanto Paolini Luca Paolini Luca Rodolfo Paolini onorevole della Lega della Lega dice sostiene che le autorità quindi la polizia i carabinieri in tutte queste situazioni con carriere e sgarbi sono state un po' troppo generose forse Paolini voleva qualche cosa in più intanto fino a 100 casi al giorno teniamo i pazienti e potenziamo l'unità covid parla Carlotti da Pesaro direttore del Dipartimento di Prevenzione da oggi 8 unità di personale in più a Fano test rapidi entro novembre saranno pronti dei mini drive dedicati solo alla popolazione scolastica e questa è la notizia che comunque fa ben sperare soprattutto per la celerità per dei controlli dei tamponi che spesso abbiamo visto io proprio l'altro giorno no ieri mi pare una persona che ha un familiare all'ospedale insomma diceva a noi nessuno ci ha chiesto niente nessuno ci ha chiesto il tampone nessuno ha chiesto come sto come non sto sono io che privatamente sono andato a farmi fare il tampone due volte perché giustamente con un compagno un marito ricoverato in ospedale positivo io voglio sapere come sto ho bisogno di sapere come sto se sono positiva anch'io oppure no nessuno si è fatto sentire nessuno ha detto nulla e quindi lei di sua spontanea volontà è andata in un centro privato a farsi ben due tamponi e grazie al cielo è negativo però nessuno poi si è preoccupato di rintracciare i contatti eccetera eccetera perché perché parliamo ovviamente di numeri che non sono più quelli di due mesi fa e quindi i tracciamenti ormai sono saltati completamente però nemmeno al familiare stretto è stato chiesto di fare un tampone o di seguire un percorso eccetera eccetera quindi insomma ecco queste sono quelle cose che lasciano un po' perplessi e questo ve lo racconto perché ho parlato proprio direttamente con questa persona che è interessata intanto andiamo a vedere sempre sul giornale l'azienda Marche Nord ancora alla ricerca di ulteriore personale chiamata per infermieri operatori sociosanitari ed ex medici in pensione e poi concorso per geriatria primario senza reparto Magnoni rilancia la nomina anche se sul bando pendono due ricorsi quattro multati ma anche tante delazioni sanzioni per il coprifuoco e alla municipale molte chiamate quella di Pesaro per segnalare assembramenti nei locali gli agenti vanno ed è tutto però in regola tra le varie chiamate anonime molte riguardano locali e bar della zona del mare di Pesaro ma perché la polizia è così buona con il signor Carriera eccolo qua anche sul Carlino il deputato si chiede perché le autorità permettano a questo ristoratore di prendersi gioco delle regole costretto a rimanere chiuso per colpa della burocrazia Luca Mancini del bar della fortuna dice il mio locale è inserito in un centro commerciale praticamente inesistente questa è una notizia che arriva da Vallefoglia da Fano invece in arrivo i buoni spesa per le famiglie ecco quanto riceverà ogni comune dell'ambito sociale saranno erogati tramite la tessera sanitaria in media 250 euro a famiglia dunque sono in arrivo per tutte le famiglie che sono in difficoltà economiche che risiedono nell'area di competenza dell'ambito sociale numero 6 ci sono questi soldi questi buoni che andranno a 227 nuclei familiari che potranno contare su un contributo come abbiamo visto di 250 euro poi c'è la cronaca a Orciano un agricoltore 75enne che si accascia e muore stava guidando un trattore ma ha fatto in tempo a fermarsi è stato colto da infarto c'è una notizia invece dalla pagina di Fano del Corriere che riguarda e qui chiudiamo dunque il Covid anche se ogni tanto lo ritroveremo qua e là i top brand di lusso e sport che nascono a Fano così due trentenni hanno creato OcLab Tech da disegno a prototipo l'escalation di Vitolo Verre e Raffaele Stelluti Scala che dicono la nostra clientela è per l'80% straniera mentre sulla sorveglianza garantita il canone sospeso la Vigilar questo istituto di vigilanza privato per le attività coinvolte nell'ultimo DPCM ha deciso di sospendere il canone quindi quello che insomma non chiede soldi per questo periodo mi pare una cosa buona sensata e lodevole i prigionieri ecco qua la notizia di questo Luca Mancini questo titolare del Caffè della Fortuna che si trova a Morciola che parla di prigionieri di sentirsi prigioniero prigioniero di che cosa? di finti centri commerciali noi chiusi nel fine settimana abbiamo perso 4.000 euro ha rilevato Mancini a febbraio il Bar della Fortuna dai cinesi però a causa della burocrazia assurda dice lui stiamo perdendo tanti soldi perché chiudono il centro commerciale noi siamo qua e quindi Carloni faccia qualcosa l'assessore Fanese intanto sulla RSA la casa di riposo Bricciotti di Monbaroccio è tutto surreale Biancani ci crede ingenui Michela Marsili del comitato no dice Cerisciole non ha fatto nulla e ora lui fa un'interrogazione Alessandra Ubaldi da Urbino l'ultima artigiana con guado e donne stupisco i turisti la signora che lotta contro le produzioni seriali con il suo negozio in centro e una e-commerce parla di unicità poi sempre dai giornali di questa mattina le storie dei preti nostri biografie mai scritte prima un libro di cui vi abbiamo già parlato anche nel nostro telegiornale scritto da Silvano Bracci e da Tonelli la vita di cardinali e vescovi e di tutti i sacerdoti che sono transitati nel nostro territorio nel Fanese nel 1900 quindi nel 900 è un libro molto interessante di cui di cui appunto abbiamo già parlato nei nostri spazi informativi è un libro che propone gli elementi biografici di una sessantina di vescovi e cardinali originari della diocesi di Fano Fossonvone Cagliopergola dal quindicesimo al ventesimo secolo e tra loro c'è anche un papa e di tutti i sacerdoti che hanno vissuto nel secolo scorso positivi al covid Pergola si ferma a quota 10 invece la sindaca avvia nuovi servizi e dice niente allarme però serve prudenza da Senigallia invece coltello contro i vigilanti super multa da 900 euro i carabinieri disarmano un giovane ubriaco che girovagava di notte senza mascherina e guai poi anche per altri giovani per il mancato rispetto del coprifuoco e delle normative anti-covid mentre Uliassi a Senigallia lo storico chef stellato ne ha tre di stelle dà appuntamento ai gourmet per la prossima stagione e dice in questi giorni ha deciso di chiudere e poi di riaprire più avanti insomma quando le cose saranno tornate un po' più alla normalità intanto anche la cronaca di Senigallia dal Carlino minaccia il vigilante con un coltello Senigallia il ventenne ubriaco è stato bloccato e denunciato dai carabinieri arrivati sul posto dopo l'allarme poi guida sotto l'effetto dell'alcol ritirata la patente ad un diciottenne multati dagli uomini dell'arma alcuni giovani che non hanno rispettato il lockdown e poi anche qui non rispetto il coprifuoco sempre Senigallia affermato e multato la polizia ha trovato il giovane dopo le 10 di sera alla guida della sua macchina da Pesaro il Corriere corsa i bonus per la spesa ai bambini nella prima settimana già 3.800 le richieste l'assessore Pozzi dice la pandemia genera situazioni di difficoltà economiche del tutto nuove e poi Ambrosini corsa all'alba in Riva al Mare l'ex giocatore del Milan ma c'è chi lo surclassa facendo il bagno e poi il Corriere ricorda il primo cittadino stasera a Fano TV questa sera con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci lascio la diocesi invece le fotografie di Monsignor Giovanni D'Ercole vescovo di Ascoli che dice lascio la diocesi ma per mia scelta va in Africa D'Ercole prima dice lui vorrei incontrare il Papa Fucili Scala pure Amazon l'ultimo album del cantante fanese si è piazzato al decimo posto nazionale un video che troverete anche su YouTube sulla rete mentre Di Donato siamo allo sport inizia con un K.O. la Vispesaro che ha perso in casa per 1-0 contro il Feralpi Sanò poi mentre l'altra pagina del Corriere sul Fano ecco il titolo la lista dei rimpianti contro il Sud Tirole sfumata in extremis la prima vittoria anche per una serie di evidenti errori la squadra è vivace e anche grintosa ma certi regali non sono proprio più possibili occhio al mercato per il derby di mercoledì Zigrossi dovrebbe recuperare mentre Vuel che spettacolo mette la tripla dopo una lunga battaglia piegata anche Varese Delfino e Robinson trascinano una squadra da favola una vittoria da incorniciare Carpegna Prosciutto dunque che vince in casa a Pesaro 85 contro Varese che invece di punti ne ha totalizzati 78 noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito buona giornata a tutti ci vediamo stasera a 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia a 2 tra a 2 tra Grazie a tutti.